dunque signore dio nostro creatore nostro quando le nostre passioni causa per noi di morte per una vita disordinata si saranno affrancate dall'amore del mondo e la nostra anima comincerà ad essere davvero viva per una vita buona e si sarà compiuta la tua parola che pronunciasti per bocca del tuo apostolo non uniformatevi a questo mondo allora si realizzerà anche quanto hai aggiunto subito dopo dicendo riformate voi stessi rinnovando il vostro cuore non però secondo la specie come se dovessimo imitare quelli che ci hanno preceduto o vivere seguendo l'esempio di un uomo migliore tu non dicesti sia fatto l'uomo secondo la sua specie ma hai detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza per farci riconoscere la tua volontà per questo quel tuo ministro generando dei figli per mezzo del vangelo per non averli sempre piccoli da nutrire allattare e riscaldarseli fra le braccia come una nutrice esclama riformatevi rinnovando il vostro cuore affinché possiate riconoscere quale sia la volontà di dio che è buona gradevole e perfetta perciò tu non dici sia fatto l'uomo ma facciamo non dici secondo la sua specie ma a nostra immagine e somiglianza chi rinnovato nel cuore contempla e comprende la tua verità non ha bisogno delle indicazioni di altri uomini per imitare la propria specie ma ammaestrato da te riconosce da solo quale sia la tua volontà che è buona gradevole e perfetta quando è capace di vedere tu gli insegna a vedere la trinità dell'unità e l'unità della trinità ecco perché è detto al plurale facciamo l'uomo e poi aggiunto al singolare e fece dio l'uomo è detto al plurale a nostra immagine e aggiunto al singolare a immagine di dio così l'uomo si rinnova per mezzo della conoscenza di dio secondo l'immagine di lui che l'ha creato e fatto ormai spirituale giudica tutte le cose che possono essere giudicate mentre egli non è giudicato da nessuno